Cambia il passo di questa regione anche attraverso la ridestinazione di fondi rivolti agli enti locali da progetti per richiedenti asilo a reali necessità per i residenti sul territorio da almeno cinque anni. Lo annuncia l'assessore alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti portando ad esempio uno dei primi provvedimenti in tal senso il finanziamento di 171 mila euro al comune di Trieste che originariamente destinato a progetti per richiedenti asilo ora spiega la regione in una nota dopo precisa verifica con l'amministrazione giuliana verrà utilizzato per borse lavoro per residenti sul territorio regionale appunto da almeno cinque anni. È un segnale importante sottolinea Roberti che va in un'ottica di razionalizzazione delle risorse che devono sostenere e favorire le comunità locali. Nel programma Immigrazione 2017 continua l'assessore vi era un capitolo che riservava 400 mila euro ai quattro comuni capoluogo per progetti macro inerenti richiedenti asilo che sarebbero dovuti essere conclusi entro lo scorso giugno e invece all'atto del nostro insediamento nemmeno erano iniziati. Il comune di Trieste aggiunge Roberti ha chiesto una proroga che in accordo con l'assessore ai servizi e le politiche sociali Carlo Grilli abbiamo vincolato all'utilizzo attualmente previsto e così conclude siamo pronti a fare anche con Udine, Pordenone e Gorizia per gli oltre 200 mila euro rimanenti.